No Simona grazie ma non posso venire domani alla spa perché ho le mie cose, guarda sto malissimo e poi per quel viaggio il prossimo mese ti ringrazio ma non posso venire perché avrò il ciclo proprio in quei giorni Oh che peccato, io posso andare ogni volta che voglio dove voglio e non devo neanche più guardare il calendario Va bene, ci sentiamo tra una decina d'anni ok? Intanto io mi godo la spa e la spiaggia senza pensieri, ciao! Ciao amiche di YouTube e ciao belle signore, incuriosite o interessate alla menopausa? Voglio iniziare questo video dicendovi subito una cosa importante, la menopausa non è una tragedia e non è un disturbo e neanche una malattia Tutti pensano alla menopausa come alla fine di una fase della vita, per alcuni addirittura la fine della femminilità ma oggi faremo un'operazione rivoluzionaria, rovesciamo la medaglia La menopausa non è la fine ma l'inizio di una nuova fase della vita e della femminilità e se volete può essere più splendida della precedente perché menopausa non fa rima con anzianità, no? Anzi la menopausa porta con sé dei vantaggi, sapete quanti sono? Sono tanti e in questo video vi voglio svelare 7 vantaggi, quelli che secondo me sono più importanti Vediamo se ci avevate pensato anche voi e se ve li state godendo 1. Prima di tutto basta con il ciclo e questo è già un motivo per celebrare la menopausa Non descrivo i disagi da cui ci si libera perché li conosciamo tutte benissimo Mi voglio concentrare sugli aspetti positivi 2. E basta sindrome premestruale, dolori, mal di testa, sbalzi d'umore, cambi di personalità e gonfiore, aumento di peso Secondo le statistiche ormai più dell'85% delle donne sperimenta uno o più sintomi premestruali ogni mese con grande disagio Chi vuole approfondire il tema può guardare questo mio video con i rimedi naturali per la PMS Premenstrual Syndrome 3 In menopausa non c'è più nessun rischio gravidanza inaspettata quindi si può essere molto più tranquille e piacevolmente spensierate durante i rapporti 4. Questo fatto migliora notevolmente la sessualità dove sappiamo tutte che la tensione e la paura di una gravidanza non programmata non giocano a favore del piacere Lasciarsi andare senza pensieri è un privilegio della menopausa e senza pillola 5. La menopausa annulla gli sbalzi ormonali tipici del ciclo e porta una nuova stabilità che in Oriente chiamano saggezza e la saggezza porta più distacco fa sentire più sicure e meno condizionate dagli altri e questa è una grande libertà 6. La menopausa è un traguardo dal quale ripartire con un nuovo impulso È un momento in cui decidere di avere più cura o ancora più cura della salute con la giusta alimentazione, gli integratori necessari alle nuove esigenze che fanno solo bene alla salute Avete visto quanti vantaggi in menopausa? Prima di descrivere il settimo vantaggio che vi stupirà un po' mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace, tanti nuovi video e per tante altre informazioni sulla salute naturale basta iscriversi al canale facile, con un click e attivate le notifiche, mi raccomando e poi fate come me diventate portatrici sane di salute naturale condividete queste informazioni con le vostre amiche pubblicate i miei video sui vostri social e sarete utili a molte donne che vedranno la menopausa con uno sguardo più positivo Sette Ecco il settimo fantastico vantaggio a cui forse non avete mai pensato Se incontrate una donna che all'improvviso diventa rossa o inizia a sudare avete vicino una sorella di menopausa è un buon momento per allacciare un nuovo rapporto io credo tantissimo nella condivisione e nel mutuo sostegno tra le persone e tra donne in menopausa può nascere una grande amicizia che porta un nuovo bene nella vita che prima non c'era Intanto potete condividere la vostra esperienza nei commenti qui sotto se vi fa piacere così iniziamo a diventare amiche scrivendoci Allora donne, siete contente? Spero di sì Io sono con voi Se pensate ai disagi che la fase iniziale della menopausa porta con sé vi consiglio di guardare questo video dove descrivo i migliori rimedi naturali per i sintomi correlati come vampate, insonnia, ansia, stanchezza e secchezza vaginale Per quest'ultimo sintomo propongo una strategia naturale naturalissima che vi piacerà molto e noi ci rivediamo al prossimo video naturalmente Ciao I vantaggi della menopausa Ok naturale Grazie a tutti